Ciao a tutti, in questo video parleremo dell'indirizzo IP. Allora, partiamo dalla definizione di Wikipedia. L'indirizzo IP è un'etichetta numerica che identifica onivocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza Internet Protocol come protocollo di rete. E questa è la prima definizione. L'indirizzo IP è sempre suddiviso in due parti. La prima parte identifica la rete, quindi di che rete stiamo parlando, se classe A, classe B, classe C. L'altra parte invece identifica l'host, ovvero l'indirizzamento a livello proprio di host, quindi non di rete. Abbiamo due tipologie di indirizzo IP, gli IP pubblici e gli IP privati. I IP pubblici sono tutti quegli indirizzi che sono ruotabili su Internet e che non appartengono a nessuna classe di indirizzamento IP privata, che poi la vedremo successivamente. L'indirizzo IP privato si utilizza per comunicare all'interno di una rete locale, quindi qualsiasi indirizzo privato non sarà mai ruotabile su Internet. Questo è molto importante. Su Internet solo indirizzi IP pubblici, non appartenenti a nessuna classe di indirizzamento privato. L'indirizzo IP pubblico permette di accedere a Internet? Ovviamente sì, e questo indirizzo IP deve esserci assegnato da un certo ente, da una certa organizzazione. Non possiamo prendere un indirizzo IP qualsiasi e provare ad andare su Internet, perché ovviamente non funzionerebbe, per cui ci deve essere assegnato. Qui possiamo osservare più nel dettaglio che cos'è l'indirizzo IP privato. Quindi, come si può leggere da Wikipedia, in telecomunicazioni con indirizzi IP privati si intendono alcune classi di indirizzo IPv4, definite nella RFC 1918. L'RFC sono praticamente dei documenti tecnico-ufficiali in cui vengono raccolte le norme su cui si devono basare i protocolli di comunicazione. Allora, innanzitutto indirizzo IP riservato alle reti locali. Come abbiamo già ripetuto, non sono indirizzi ruotabili su Internet, e per cui con un indirizzo IP privato non potremo mai navigare su Internet. Gli indirizzi IP privati si dividono in classi e abbiamo principalmente tre classi. Gli indirizzi IP di classe A, 10.0.0.0. Gli indirizzi di classe B, che sono 172.16.0.0. E poi abbiamo gli indirizzi di classe C, 192.16.8.0.0. Allora, principalmente queste classi di indirizzi servono a definire qual è la parte di indirizzo destinata alla rete e qual è la parte destinata all'host. Quindi, gli indirizzi di classe C sono, diciamo, qui è la classe C la classe più piccola, ovvero quella che permette di indirizzare meno host. Per cui quando si progetta una rete bisogna capire innanzitutto qual è la dimensione di questa rete. Reti molto grandi avranno bisogno di un indirizzo IP privato di classe più alta, quindi magari di classe A, che può indirizzare il numero di indirizzi disponibili, sono molto di più grandi, cioè sono molto di più rispetto, ad esempio, alla classe C, che invece ha molti meno indirizzi. Per cui è sempre necessario dimensionare la nostra rete. E quindi queste sono le tre classi di indirizzi IP ruotabili solo internamente. Mentre l'indirizzo IP pubblico, che è un indirizzo IP nello spazio di indirizzamento della rete internet, è utilizzabile, è innanzitutto assegnato da un ente regolamentato, che è l'ICAN, e poi da una serie di altre organizzazioni. E questi indirizzi IP sono pubblici, sono univoci, ovvero nella rete in internet non ci possono essere due indirizzi IP pubblici uguali, cosa differente per quelli privati, perché lo stesso indirizzo, ad esempio un certo indirizzo di classe C, un 921681.10, può essere tranquillamente utilizzato all'interno di un'altra rete locale. Quindi queste sono le principali differenze tra indirizzi IP pubblici e indirizzi IP privati.